a pranzo insieme, però se oggi risultasse che mia moglie era una informatrice del KGB russo o della scia americana, io non ne sarei affatto stupito. Per me il sospetto era un obbligo, io ho avuto molto, anzi a questo proposito mi spieghi, mi disse, io continuo ad avere dei rapporti con i miei colleghi dei servizi segreti italiani, i quali sento alla disperazione perché in Italia si vogliono dei servizi segreti che siano anche trasparenti. Ora mi spieghi lei, come si fa ad avere un servizio segreto trasparente? O è segreto o è trasparente. Allora disse, ma voi come eravate organizzati qui? Beh, dice, noi eravamo organizzati in tutt'altro, siamo organizzati in tutt'altro modo, c'è un capo che risponde in pieno della responsabilità totale dei servizi segreti e ne risponde direttamente al capo dello Stato. È il Presidente della Repubblica a cui il capo dei servizi segreti riferisce. E beh, dico, questo poi sì è molto bello per l'efficienza di questi servizi, ma può anche contenere delle controindicazioni. Non è molto democratico. Ecco, non è molto democratico, ma questo non glielo dissi perché il servizio segreto non deve essere democratico. Dissi però, come si fa per esempio a purgarlo degli elementi infidi o sporchi? Come si fa? Dice, non lo si purga, mi disse lui. Non lo si purga, perché si ricordi bene che tutti i servizi segreti sono inquinati. Moltissimi agenti sono a double face, servono i servizi segreti nostri e servono quelli altrui. Noi lo sappiamo, cerchiamo di utilizzare questa cosa fornendogli notizie false, in modo che loro... è tutto un gioco. E dico, va bene, ma questo è una porcheria. Ma dice, ma cosa vuole? Che non ci sia porcherie nei servizi segreti? I servizi segreti sono fatti da uomini che lavorano nelle fogne. Chi lavora nelle fogne per forza si sporca le mani. Dice, ma tutto questo deve essere coperto dal segreto per l'efficienza delle cose. Dice, voi volete fare il servizio segreto e trasparente? Mi hanno detto, c'è perfino una commissione parlamentare formata dagli esponenti di tutti i partiti che controlla i servizi segreti. Dice, il segreto dove va a finire? Aveva ragione, aveva ragione lui. Quando erano in corso le prime indagini per la strage di Piazza Fontana, l'anarchico galantuomo Giuseppe Pinelli morì precipitando dal quarto piano della questura di Milano. Alla pulizia fu imputato d'averlo deliberatamente ucciso e il commissario Luigi Calabresi venne indicato come esecutore del crimine e fatto oggetto di una furibonda canea accusatoria. Il 17 maggio 1972 Calabresi fu assassinato. Molti anni dopo, grazie alle rivelazioni di un pentito, Leonardo Marino, che si era confessato complice dell'agguato contro il commissario, furono processati e condannati i presunti mandanti ed esecutori. Tra loro Adriano Soffre. Senta Montanelli, tornando in Italia in quegli anni, perché tanto accanimento contro Calabresi che tra l'altro non era nemmeno nel locale della questura quando Pinelli precipitò? Ma ecco, questa è una cosa che io seguito a domandarmi. Perché se c'era un funzionario corretto e che veniva portato ad esempio da tutti i suoi colleghi era Calabresi. Per quale motivo si scatenò questa campagna contro di lui? Non lo so. È vero che aveva interrogato Pinelli, ma gli interrogatori di Calabresi facevano testo per la loro correttezza, sempre. E quindi, come dice lei, Calabresi non c'era. Non c'era. Non era in questura nel momento in cui avvenne il fattaccio. E quindi? E quindi non lo so. Non so per quale motivo a un certo momento la stampa si incendiò e cominciò a ditare Calabresi come il brutto, come lo scherano del potere sopraffattore e assassino. Questo si lesse, si lesse in vari giornali. Ora, il potere sopraffattore e assassino in quel momento era rappresentato da rumore e da Colombo. Mi dica a lei se hanno il viso dei sopraffattori assassini. Magari lo fossero stati un po'. Immaginiamoci. Questa campagna fu implacabile. Assolutamente implacabile. Ecco, ma lotta continua inneggiò all'assassinio di Calabresi. Questo è sicuro. è anche... è orribile. Però non è un omicidio il fatto di aver inneggiato. Mentre su Soffri, Bonpressi e Pietro Stefani pesa adesso una condanna definitiva a 21 anni di reclusione. Dopo l'inchiesta condotta dalla procura di Milano. Conclusione di questa inchiesta e di una lunga serie di processi. Ecco, lei cosa pensa? È per la revisione di questi processi? Io sono per la chiusura di questi conti. Il terrorismo è stato un ciclo storico. Non è come la mafia, la camorra, eccetera, che sono endemi, sono dei fenomeni endemici, no? Sì, è un periodo che si chiude. Il terrorismo è un periodo. È un periodo naturalmente sbagliato, abnorme, tutto quello di insanguinato, ma è un periodo. Quando un ciclo storico si chiude, bisogna chiudere i conti perché a lasciarli aperti se ne innescano degli altri. Ora, vorrei far notare anche una cosa, che è vero che il là a questa campagna contro Calabresi fu innescata da lotta continua diretta da Soffri, con i suoi compagni Bonpressi, Pietro Stefani, eccetera, eccetera. Questo è vero. Ma è anche vera, è anche vera un'altra cosa, che questi tre che sono in galera oggi, sono gli unici che hanno recitato atto di contrizione, con una lettera di Soffri alla vedova Calabresi, in cui ha detto ed è documentato noi non siamo stati gli assassini di suo marito, però riconosciamo la nostra responsabilità morale nella creazione dell'atmosfera che condusse all'assassinio di Soffri e di questo chiediamo perdono. Quando loro lanciarono questa crociata contro Calabresi, quando loro invocarono la giustizia proletaria perché il povero Pimpinelli fosse vendicato su Calabresi, 800 intellettuali italiani la sottoscrissero, 800! Ci sono tutti i più grossi nomi della cosiddetta intelligenza, della cosiddetta intelligenza che hanno sottoscritto questo appello alla giustizia popolare contro Calabresi. Mi pare venti anni dopo l'Europeo fece un'intervista, mandò un suo redattore a fare un'intervista a questi sottoscrittori del manifesto, non ce ne ricordavano più, nessuno di loro ha fatto atto di contrizione, gli unici che l'hanno fatto sono stati quelli che si trovano in galera. Ecco perché io dico che bisogna chiudere i conti.